Calcio mercato, cerchiamo il Silva che ci interessa, che è un difensore, centrale, vai, quindi, diciamo così, contatta per l'acquisto, a questo punto, azzardiamo un 6 milioni, ci sputano in faccia un 5, 5 mi sa che è poco, però magari, cazzo, praticamente facciamo a cambio pari con Redzic, però aspettate, in linea teorica gli andrebbe pure bene, nel senso, il valore di Redzic al momento è 5 milioni, ma Redzic sale tanto, quindi, non, no, noi pagheremo alla pari, facciamo un'altra cosa, guarda, non ti do Redzic, però ti do, che gli avevamo offerto 5 milioni, offriamogliene 6, Vabbè, sti cazzi, signori, va bene, va bene, 6 milioni, va bene per Silva, eee, ora, diamo una salvata, che qua facciamo dei trick e track, salva, perché lui adesso è a fianco a Bambarambara per forza di cose, quindi potremmo prendere un altro, ce ne sarebbe anche un altro che vale troppo, ok, un altro giovincello, ci starebbe, vediamo, un altro difensore, proviamo con questo, anche questo dovrebbe essere discretamente sportiveggiante, vediamo, questo è, qua, dice che varrebbe 15 milioni, quindi se tanto mi da tanto, io vado a offrire 6 milioni pure a lui, qua ci mandano a fanculo, a calci nel culo, no, no, va bene questo, quell'altro non dovrebbe andare così in alto, eh, ok, no, qua abbiamo esagerato, qua abbiamo esagerato, eeeh, vabbè, noi possiamo tranquillamente uscire senza salvare, questa volta possiamo caricare direttamente da qua, proviamo 8, dai, 8 poi valutiamo, cerca, di nuovo, sì, questo, in teoria sono più bravi pure di Bambarambara, però, Bambarambara è capitano, capitano nonché capitone, poi dobbiamo vedere pure quanto vogliono a contratto, eh, eh, ma, cioè, se gli diamo qualche nostro scarto, ci mandano comunque a fanculo, perché gli unici scarti che gli possiamo dare, sono veramente scarti, cioè, io posso dare uno, giusto perché ce lo vogliamo togliere, 8 milioni, in più ti posso dare, allora, questo che non cresce più, in linea teorica, ci potrebbe pure stare, eeeh, Ruson, cioè, per carità, non che non glielo voglio da, però, ci prendiamo quello di 20 anni, che c'ha un overall già nettamente più forti quelli, diamo questo qua, probabilmente, cioè, vabbè, vediamo, Quanto vogliono? Credo ci sia un errore, 36 milioni, guarda, contro offerta, a parte che ti rimuovo la clausola di rivendita, forse hai sbagliato a scrivere, credo, eh, forse hai sbagliato a scrivere, eeeh, eh, ma sarà cresciuto di quanto, cioè, pure quell'altro in linea teorica, dovrebbe essere cresciuto, guarda, se vuoi, te posso da, dai, B2 te lo posso da, no, allora andatemi un affanculo, ma che stai voi, 36 milioni, ma tienitelo, avanti il prossimo, vediamo, eeeh, eh, al prossimo arriviamo a Scalvini, al prossimo ci arriviamo, al prossimo, eeeh, sì però, guarda, quasi non lo prendo più Scalvini, Marco, te lo dico, quasi non lo prendo più, solo perché l'è scritto 300 volte, non lo prendo, grazie Mirko, grazie mille per i 19, grazie, eeeh, Allora, che il prezzo dovrebbe essere, vabbè, questi sono sempre quello della, dell'annata precedente, intanto dobbiamo vedere se quello riusciamo poi ad accaparrarcelo, eeeh, questo qua l'avevamo messo tra i papabili, ma, ah, è, il Bergamo Calcio è inteso come Atalanta, linea teorica, allora, offerta per il cartellino, questo non dovrebbe valere tanto, però io non vorrei mo, azzardare una troiata, fammo 2 milioni, e ti do, guarda, ti do pure Rosen, che qualcosa ce fai, ma ci interessa alcuna contropartita di cambio, pensavo più a non fare 4 e 6, no, vabbè, 4 e 6, non ti sta allargando, rimuovi clausola di rivendita, e ti posso dare 3 e 6, 3 e 6 però, so che non ti interessa, no, vabbè, non gli interessano le contropartite, quindi, proviamo, ma come 6 e 8, ma che cazzo dici, eh, mo, mo ci manda a fanculo, no, però non più di 5, proviamo, se no poi ricarica, vediamo, dai, che cazzo è, 5, 5, 5, 5, questo che significa, che ci hanno mandato a fanculo, non lo so, può essere, comunque, allora, attenzione, perché pure qua, andando a provare il contratto con Silva, potremmo fare delle troiate, eh, eh, ci fanno sapere però, insomma, di solito quando dicono, guarda, ti faccio sapere, arrivederci e grazie, diamo una salvatina, va, no, perché a volte, quando vai a offrire contratto ai giocatori, anche non volendo, ti mandano a fanculo, però, basta sapere, magari, cioè, più o meno, quanto vuole, del ruolo del mio assistito, titola importante, no, va bene, sì, durata il contratto 5 anni, va benissimo, nessuna clausola rescissoria, il mio assistito, 13 milioni e 9, di clausola rescissoria, no, non la voglio la clausola rescissoria, modificare le nostre richieste di conseguenza, 3,7, bonus di ingaggio, presenze, vabbè, guarda, contro offerta, ti dico, l'unica cosa che faccio, eh, no, no, questo va bene, solo il bonus, quello delle presenze, che dici? 3,8, vabbè, sti cazzo, sì, alla fine si va uguali là, 3,8, non è male, noi quanto abbiamo, budget settimanale, 520 mila, voglia, no, no, va bene, va bene, ok, signori, ci sta, e Silva, ce lo siamo accaparrati, va benissimo, Silva lo mettiamo, dal benfica al Moricam, per 6 milioni, spero che sia stato un buon acquisto, vediamo, vediamo, totale 70, vabbè, ci può stare, è una brutta trattativa, ma probabilmente lui dice brutta trattativa, perché abbiamo quegli altri, non perché, valore giocatore, 3 milioni e 9, migliore offerta possibile, 3,1, ma non è vero, ci abbiamo provato, ci hanno mandato a fanculo, ma come brutta trattativa, ma non è vero, a parte che in linea teorica doveva essere più bravo, in linea molto teorica doveva essere di base, forse hanno aggiornato i rose, e non hanno aggiornato il coso qua, 75, però vabbè, comunque meglio di Philips, quindi potrebbe andar bene, ci hanno fregato, ci hanno volato il pacco, però, intanto andiamo a mettere, così, lo andiamo a spostare, ci mettiamo silva titolare, per quanto riguarda gli altri, per quanto riguarda gli altri, allora, si potrebbe provare, allora, anche un esterno destro, al posto di Poku, ci potrebbe stare, un esterno destro, al posto di Poku, potrebbe andar bene, vediamo un po', se troviamo qualcosa, ok, allora, Gittens, tra l'altro, in generale, potrebbe stare da un lato e dall'altro, e va bene, eh, ci sarebbe qualcun altro, ma qua mi sa che già partiamo con prezzi devastanti, no, questo no, magari, qua salva, guarda, facciamo un'altra cosa, a risalva un'altra volta, qua salviamo spesso e volentieri, che non si sa mai, perché Poku per carità va bene, però se troviamo anche un altro, insomma, visto che si stanca, quelli sulle fasce si stancano, a FIF per il momento lo teniamo, anche se potremmo venderlo per 20 milioni, ci uscirebbe qualcosa di bello prepotente, però, allora, allora, in realtà, fatemi vedere se avevo trovato io qualcuno qua, eh, come esterno destro, esterno destro, avevamo segnalato, fofana, e inciso, ma in realtà, quelli che, quello che adesso ho trovato, sarebbe ancora meglio, però, non penso che, che sia fattibile, lo proviamo, terzini ce ne abbiamo, signor Pino, esterno destro, no, le va, ma vaffanculo, ripristina tutto, allora, aspetta, se no, ci dovrebbe essere un Pino, che però dovrebbe, valere un po' troppo, eh, porca troia, clausola recissoria, 87 milioni, insomma, eh, oddio, se c'ha, 87 milioni, significa, che, allora, sulla carta, già dovrebbe valere, una madonna, però, proviamo, facciamo, allora, aspetta, prima scambio giocatori, io che ti potrei dare, allora, ecco, già a costa, che comunque, ce lo dobbiamo togliere dai coglioni, potrebbe andare bene, in realtà, gli potrei dare, pure, a fiffa, però, famo che, te do a costa, che vale, 7 milioni, questo, allora, qua, dice che, 38 milioni, eh, così, ci mandano a fanculo, dritti per dritti, però, dobbiamo sondare il terreno, secondo me, ci mandano a fanculo, dritti per dritti, proviamo un 15, con 15 milioni, no, finiamo il budget, però, perché noi non abbiamo ancora sottratto il budget di quell'altro, eh, no, perché se poi accetta l'altro, è un problema, a meno che, non ci vendiamo nel mentre a fiffa, proprio al volo, vabbè, vediamo, tanto ci mandano a fanculo, cioè, se questi vogliono veramente una madonna di soldi, eh, no, dai, vabbè, era, era palese, e, no, calcolando che non abbiamo neanche tutti sti gran soldoni, eh, però, aspetta che ce n'è un altro, che forse, forse, vediamo, vediamo, eh, questo così si chiama, però, forse, non è proprio esterno esterno, vediamo, no, dovrebbe esserci un, Matis Tell, un francese, forse non è, proprio, neanche tra, perché, ha molti più ruoli, non vorrei che, magari, il suo principale, sia un altro, proviamo a vedere, se, ha addirittura, come attaccante, ce lo segna, vabbè, noi comunque, poi, facciamo che cazzo che ci pare, questo è discretamente, bravo, probabilmente, pure qua, ci mandano a fanculo, senza passare dal via, anche se, non dovrebbe valere tantissimo, sulla carta, credo che, però, questo, due milioni, e qualcosa, sia un po' troppo poco, no, grazie, paoletta, grazie per i 32, tre milioni, mo' ci mando a fanculo, dritto per dritto, e invece, vabbè, tre milioni, no signori, neanche ricardo, va bene, tre milioni, ci sta, poi, lo, riorganizziamo, ci sta, facciamo esterno destro, lui, vuole giocare da sporadico, va bene, questo, in linea teorica, dovrebbe arrivare a 86, 5 anni, va benissimo, nessuna clausola, eh, come che cazzo ne so, eh, a me, quando fanno così, mi mettono in difficoltà, perché non ho la più pallida idea, di quanti soldi dargli, 4 mila, che cazzo ne so, bonus d'ingaggio, guarda, 20 mila te li do pure, mille euro, è una barbonata, fanno un 4 mila, dai, eh, 4 mila e nove, bonus d'ingaggio e presenze, allora, aspetta, bello, leva quello delle presenze, e vai così, e mo c'è un vento a quello, vedete, ah, a me, ok, ok, mo li cambiamo ruolo, e lo mettiamo esterno, vediamo qua, trattativa di merda pure questa, bravi, bravi tutti, eh, allora, beh, almeno abbiamo tenuto comunque un po' di, di moneta, Redzik sta in nazionale, va bene, dove sta Tel, allora, Tel, 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 a te, ti portiamo, e dove te mettiamo, se ci togliamo a costa, o Tanase, vabbè, magari, mettiamo al posto di Tanase, eventualmente, Tanase, metterlo qua, che non, non so, ce lo scordiamo proprio, magari, Tanase, comunque, è uno di quelli da vendere, però, e adesso vediamo, un attimino, poi lo proviamo, vediamo come va, eh, andiamo un attimino, alla nostra rosa, perché, allora, innanzitutto, Silva, per quanto riguarda il piano di crescita, eh, equilibrato, stopper, libero, regista difensivo, mettiamo difensore centrale, per il momento, ok, mentre, per quanto riguarda, dove sta, va bene, va bene, allora, cambiano una trattativa, e delegare in noi, da qua gli cambio il ruolo, piano di crescita, ruolo, ok, ruolo, esterno, destro, ce la fai a fare esterno, destro? Io penso di sì, velocità, scatto e accelerazione, è quello che ci serve, mai, ok, poi ci avviserà, quando cambia, no? Dopodiché, dopodiché, beh, a sto punto, aspetterei, magari, se arriva, se, Scalvini, ci fa sapere qualcosa, perché dobbiamo sapere pure i soldi, che poi, nel caso, dobbiamo dargli, aia, oddio, signori, per la FIFA, ci hanno offerto 28 milioni, ecco, 28 milioni, un altro esterno sinistro, rubiamo, hanno accettato, per Scalvini, hanno accettato, allora, facciamo una cosa, salvatina, salvatina, quando si tratta di mercato, salvatina, è 28 milioni, per la FIFA, signori, insomma, è cazzo, sono 28 milioni, bravo, bravi tutti, però, però c'è da vedere un attimo la situazione, allora, Scalvini, Scalvini, trattiamo un attimino, sì, poi rilanciamo naturalmente, però, allora, lui vuole essere un giocatore importante, va bene, 5 anni, che sei giovine, nessuna clausola, rescissoria, vuole 11 milioni, bonus d'ingaggio, reti inviolate, guarda, togliamo, le reti inviolate, perché, con volte, morti in porta, ok, va bene, va bene, a posto, è un altro difensore centrale, ce l'abbiamo, almeno, beh, qua comunque, è già andata meglio, la trattativa, quegli altri, secondo me, la dice bassa, pure perché, va a vedere, gli altri, che hai a disposizione, vedi qua, mi ha messo, che sta, ok, Scalvini preso, Scalvini preso, adesso, andiamo a vedere, anche l'offerta, per, a Fiff, a Fiff, il suo valore, fino a 34, eh, noi, però, scusa, ci avevano rifiutato, quando avevamo detto, 33,9, Leverton, lo vuole, cazzo, Leverton, no, chi era, il Newcastle, che si era preso, Vega, o Leverton, 36, dai, il Newcastle, eh, i nostri rivali, valore di mercato, 23, ma non è vero, assolutamente, eh, mi sa che la potevamo, spara ancora più, poi mi dite, perché spari, le cifre alte, eh, perché capita, che te le danno, 36, milioni e 4, signori, ci sta, eh, mi dispiace, per a Fiff, ma, grande giocatore, bravissimo, eh, però, 36 milioni, ci sta, può andar bene, eh, allora, vediamo se firma, così poi, se arrivano i soldi, possiamo fare, eventualmente, un'offertona, per, qualche, altro giocatore, devastante, magari, intanto, vediamo la, signori, questo è un momento, veramente, duro per noi, eh, mi spiace, mi spiace, ma, insomma, a malincuore, dobbiamo, che poi, in realtà, Vega, a Fiff, Tanase, a Costa, quelli, li abbiamo presi tutti, per questo motivo, dispiace, però, l'obiettivo è quello, prendere questi, che erano, svincolati, per, rimenderli, e fare, cassa, per prendere giovani, a Fiff, ha fatto, probabilmente, quando giocheremo, contro l'Everton, ci spaccherà pure il culo, però, 36 milioni, signori, sono 36 milioni, abbiamo fatto, un ottimo affare, e va bene, valore del giocatore, 23, non si sa, come è possibile, miglior offerta possibile, 38, potevamo arrivare, addirittura, va bene, adesso, adesso, beh, adesso dobbiamo via, un esterno sinistro, sì, sì, un esterno sinistro, bello di prepotenza, attenzione, così come di prepotenza, sull'esterno sinistro, il buon Andrea, un su le mani per Andrea, per le altre 10 sapone, giftate, su le mani per Andrea, grazie Andrea, gentilissimo, grazie di cuore Andrea, pilastro, non del Moregan, ma del canale, il buon Andrea, che gift altre 10 sapone, mi raccomando ragazzoni, voi avete ricevuto la sub, ringraziate il buon Andrea, bomber delle sub giftate, attenzione, grazie di cuore caro, grazie mille, veramente, allora, 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 in realtà, per quanto riguarda gli esterni, gettens, che è quello che abbiamo noi, era il top del top, che potevamo prendere, no, forse ce n'è un altro, ci proviamo, ci proviamo, magari con una salvatina, sempre abusiva, ha preso una percentuale di vendita sulla FIF, è possibile, è possibile, a buon rendere, allora, ci ha messo 31 milioni sul mercato, quindi noi al momento mercato abbiamo 50 milioni di budget, signori, spese questa stagione, 32 milioni, però, ne abbiamo incassati, un bel po', tra Vega, cioè, Vega e Afif, sono quelli che abbiamo venduto, che ci hanno fatto fai soldi, è quello, sono giocatori che avevamo preso per quel motivo, e dispiace, che se ne sono andati, Afif più di Vega, in realtà, se devo dire la verità, perché, Vega, per carità, bravo, ma in attacco abbiamo sempre avuto, tanti giocatori di, di calibro, prepotente, Afif, invece, faceva comunque il suo, vediamo qui, se, qua me lo segna così, ma in linea teorica, esterno-sinistro, dovrebbe esserci, non sembra così prepotente, in realtà, come indicato qui, a livello di potenziale, perché potenziale, dovrebbe arrivare a 89, non mi sembra, però, rimuovi da preferiti, ah, già ce l'avevamo, e vaffanculo, e fammi, eccolo qua, ah, sti cazzi, 76, eh no, ok, è cresciuto, è cresciuto, no, dall'anteprima non sembrava, il valore è di 11 milioni, beh, oddio signori, ci sta, se dobbiamo dirla, ci sta, possiamo offrire, guarda, ti offro anche 10 milioni, se, abbiamo qualcuno da toglierci dai coglioni? scusa, se li do a costa, e li diamo, magari 4 milioni, dai, a costa è 4 milioni, ci mandano a fanculo? credo di sì, però a costa, cioè, comunque non lo usiamo, eh no, come 14 milioni, facciamo un'altra cosa, potrebbero mandarci a fanculo, però, avrei anche, ah no, tra gli attaccanti, però ci sta, tanase, tanase vale 3 milioni, non è tanto, però, ti do 3 milioni, e invece dei 14, facciamo 10, si stanno a incazzare, 14 è troppo, signori, voi dite, un milione più, un milione meno, ce n'abbiamo 50, è una questione dei principi, eh che cazzo, vabbè dai, come hai detto, un milione in più, un milione in meno, non è che ci cambia la vita, però, eh, mo a sto punto, è una questione dei principi, allora, mo vediamo quanto guadagna questo, che non ne ho la più pallida idea, quindi secondo me, questo qua indica un 35k, eh, stipendio attuale, no, 46 mila, sti cazzi, allora, giocatore importante, che dite, non ci siamo, vabbè, cruciale sti cazzi, che ce ne frega tanto, poi se giochi, giochi, se no, 4 anni, contro offerta 5, che dici, perfetto, senza clausola rescissoria, va benissimo, vediamo se ci dice qualcosa di soldi, no, eh, che cazzo, allora, guadagna 46 mila, io gli offro 46 mila, però ti do il bonus d'ingaggio, dai, un 30 mila, passa la paura, vabbè, gli do lo stesso, signori, dai, sti cazzi, ok, allora, questo qua, dal Tottenham, arriva al Morecam, per 10 milioni, bella spesa, eh, la spesa è stata abbastanza importante, però il giocatore, comunque, non è male, 76 di overall, calcolate, ah, ce lo calcola anche, in confronto a, in confronto a Poku, beh, se lo possiamo mettere anche al posto di Poku, cioè, se lo possiamo buttare da una parte e dall'altra, va pure bene, no, vediamo un attimo, vediamo un attimo, allora, in realtà, esterno sinistro, mi devi mettere esterno sinistro, esterno destro, a sto punto, sti cazzi, e lo lasciamo così, vabbè, per me va bene esterno sinistro, magari mettiamo esterno offensivo, e via, non c'è neanche bisogno, in realtà, di cambiarlo, perché già esterno sinistro ci sta, calcolando che, l'altro nostro esterno sinistro, ha 73 di overall, tra parentesi, questa è un'ottima promessa, Udoge mostra un ottimo potenziale, quindi va bene, converrebbe a questo punto, eh, lui magari ogni tanto, lo possiamo mettere pure al, cosola, allora, ha il numero, eh, mo si sono scombinate tutte le maglie, vabbè, il numero 6, in realtà, ci potrebbe pure stare, dovremmo mettere, il numero a Silva, però che abbiamo venduto, buh, vabbè, sti cazzi, ok, cos'altro possiamo fare, niente di che, in realtà, cioè, onestamente non so, se andrei a comprare altri giocatori, al momento, perché in porta stiamo messi bene, difesa, mo ce ne abbiamo, tre, no, quattro difensori buoni, in realtà tre buoni, Philips, insomma, ci sta, B2 possiamo poi venderlo, eventualmente, aggiungi a lista trasferimenti, Rosen, già c'è stava, Fresneda, poi dobbiamo vedere, quanto ci costa il riscatto, fissa diritto di riscatto, posso farlo da qua, vorrei capire un attimino sta cosa, sì, sì, salviamo prima di fare troiate, in realtà, anche un cdc, potrebbe esserci utile, un sostituto, sta mai esagerando, vediamo, se troviamo proprio uno, insomma, qua andiamo un po' troppo in là, non lo so, allora ce ne sono un paio, ce ne sono un paio, ma, proviamo, guarda, senza salvare, perché, tanto per vedere se è fattibile qualcosa, abbiamo 34 milioni, fammi vedere se qualcuno, l'avevo già segnato, ciò, qualcuno di interesse, ma quanti cazzo di attaccanti c'erano, segnali, terzino sinistro, per il momento no, perché alla fine, pure cosa che abbiamo preso, può farlo il terzino sinistro, volendo, comunque abbiamo quei due di riserva, che non sono giovani, che possono comunque farlo, quel ruolo, quindi tutto sommato va bene, allora, qua ci sarebbe uno, che dovrebbe costare una madonna, centrocampista centrale, ci dice che amavinga, eh, questo però no, vabbè, una madonna, questo, valore 60 milioni, pensavo meno, pensavo meno, eh, cioè, pensavo meno, era meno, ma nel mentre è cresciuto, anche di un tantino troppo, c'ha pure 20 anni, 60 milioni non ce li ho, però possiamo pure provare a fa... per il prestito? no, eh, vabbè, c'è sempre la clausola rescissoria, per quanto non possiamo permettercela, né ora né mai, allora, vale 60 milioni, sì, sì, poi ce n'è, c'è anche emiretti, che sto tenendo d'occhio, però, chi ti posso da, eh, a questo gli dobbiamo da un rene, allora, ali, eh no, sono tutti, 18 milioni, difensore centrale, che cazzo ci fanno con i difensori, siamo, parla pure del Real Madrid, eh, in realtà, quindi, cioè che gli buttiamo 2 milioni buttati così, penso che ci manderanno comunque a fanculo, eh, Carletto, Carletto moci da, una ciampata in culo e via, grande Carletto, che bei momenti con il Milan di Sheva, grande Carlo, eh, comunque, per il cartellino, Carletto, mi dispiace, eh, non te la prenda male, quanti soldi c'ho? Guarda, io ti posso da 30 milioni, questo c'ho, lo so che mi manderei a fanculo, però, 93, ah, eccessivo, ma scusa se c'è, beh, allora, posso dire una cosa, sono pure imbecilli loro, perché hanno messo 93 di offerta, la clausola rescissoria, 87, a sto punto faccio con la clausola rescissoria, no? Vabbè, Carletto, è stato un piacere vederti, diciamo che era solamente, per incontrarti, eccessivo, eh, vabbè, uno ci prova, però, a quel punto, la clausola rescissoria, eh, lo so che è molto forte, eppure molto costoso, se arriveremo a 87 milioni, lo prendiamo, ma non credo, eh, andiamo con, altra scelta, che è, miri, di, che, in linea teorica, dovrebbe valere, non tantissimo, ma questi non so se siano comunque aggiornati, quindi, io contatto per l'acquisto, ti ci butto, oppure, un, a costa, in realtà, dovrebbe valere più di lui, quindi, poliapoku, te può servire? Poliapoku, più, 2 milioni, no, poliapoku, 2 milioni, ci può andare a fare, poliapoku, 4 milioni, dai, 18 milioni, ma vattene a fare il culo, va, ma che cazzo dici, ti posso dare, costa, e 5 milioni, e ci sto perdendo tantissimo, dai, eh, dai, oh, fatevi risentire, eh, eh, questi stanno a fare furbi, qua, vale, 7 milioni, ne vogliono 18, ma che cazzo dici, voglio vedere se accettano, quanto vale veramente, questo qua, vediamo, se è simulativo il gioco, o meno, e giù commenti, ito se n'è ito, eh, allora, c'è qualcuno, la squadra, eh, ci ha fatto sapere, che è disposto a offrire, Akbaba, più un conguaglio, di 2,9 per Inz, no, comunque ci hanno riofferto 18 milioni, o sbaglio, non ho capito, eh, no, eh, andatemene a fanculo, qua, rifiutiamo, comunque, scusa, che giocatore mi vuoi dare? Sì, uno di 30 anni, ma che cazzo stiamo a fare, eh, no, 18 milioni, non lo, non lo prendo, né ora, né mai, mi retti, si attaccano al cazzo, attenzione, ce ne sarebbe uno, addirittura, forse troppo giovane, però potrebbe crescere, potenziale è più alto di altri, che già stanno, vediamo, se esiste, o meno, sarebbe, certo, maino, eh, sto cazzo, eh, in teoria, sarebbe questo, non esiste, no, del Manchester United, No, Kobe Maino, magari quel nome, no, va bene, non esiste, vabbè, sti cazzi, oh signori, ci teniamo la squadra che teniamo adesso, basta, poco male, poco male, non è che, ci lamentiamo, era giusto per, poi c'è, il prossimo sarebbe stato la via, che è quello che abbiamo preso, eh, no, a sto punto, Miretti è troppo, 18 milioni, signori, no, noi, non prendo gli anzianotti, sono giovani, sono giovani, eh, Miretti era l'altra opzione, la prima scelta, naturalmente, era Camavinga, ma, fagioli che, no, fagioli in cesta, manco qua, inserito nella, lista, ci sono alcuni che però, già sono, non so se, è già troppo costoso, o altro, ma no, o non è giovine, giovine, va bene, signori, arriveremo a, no, ci abbiamo provato, più a costa, ma non lo vogliono, grazie ShadowBlackWolf, grazie per i 44, grazie mille, purtroppo, non possiamo, 10 più a costa, eh, ma non hanno, accettato, non so se possiamo andare, a rifare un'offerta, al, al giocatore, a costa, alla fine, comunque non lo usiamo, però, non saprei, non credo che possiamo, rifare un'offerta, direttamente, se non lo so, vediamo, accetto offerta, rifiuto offerta, no, però possiamo, ritrattare di nuovo, se tratto, cioè stiamo allo stesso punto, gli osservatori, stanno in cerca, di giocatori, allora, renegozi offerta, cartellino, te ne offro, guarda, facciamo così, però mi sa che, non ci avevamo già provato, sbaglio, 10, e te do, a costa, dove cazzo stava, tra le ani, gli attaccanti, no, mi sa che non ce lo dà, scusa, dove cazzo sta, a costa, no, forse non li volevano, e chi li diamo, ti do, vabbè, gli possiamo dare pure qualcosa, ti posso dare, sciambanes, magari certo, il cartellino, forse a costa perché ce l'hanno già rifiutato, non è in lista, credo, guarda, facciamo così, 14, 5, ma questo vale meno, no, che cazzo fa, tua mamma è in carriola, dai, guarda che so stronzi, eh, questi vogliono per forza 18 milioni, questi devono pagare qualcosa che non quadra, eh, vedi, poi pian piano ci tolgono i giocatori che l'abbiamo offerto, ti do Gabriel, che vale pure di meno, no, guarda, già perché fanno, siamo fermi sul nostro prezzo del cartellino, e allora vattene a fare in culo, a posto così, signori, noi stiamo a posto, non è che dobbiamo fare troppi cose, allora, love, 360, vale, 3 ottavate, va bene, dai, love, sì, ciao love, ciao caro, ciao caro, ci sta, ci sta, vabbè, giusto per toglierci un po' di ingorgo, nella, un giorno signori, arriveremo anche a comprare, qualche altro sportiveggiante, magari a fine, stagione, cioè, siamo comunque a metà, a metà, a metà, allora, love se ne va con una faccia distrutta, tra l'altro, poverino, eh, lo so, lui c'era dall'inizio, ma, valutazione A, ma, insomma, ma gli svincolati, a parte che li possiamo prendere sempre, ma poi sono sempre per, i soldi in più, quindi, love, il procuratore è accettato, vabbè, lui se n'è andato, vogliono, Bidò, per, 7,40, allora, Bidò, trattiamo, guarda, almeno, un milione e due, ce lo dovete da, perché Bidò, non è un bidone, come sembra, 7,50, contro offerta, facciamo 9,50, non se ne parla più, guarda come sta rilassato, 7,60, forse non ci siamo capiti, 8,60, se no me lo tengo, a me non frega un cazzo, tanto, non è un problema, se lo devo regalare, a me lo tengo, tagnautì, attenzione, attenzione, ma andiamo a vedere, prima vediamo da qua, tagnautì, 4,100,000, eh, però se ci si fa amare il portiere, certo, c'ha 27 anni, ci hanno offerto, 4,100,000, lui varrebbe, 5,3, e quindi, gliene chiedo, 5,5, 5,6, a me adesso, 4,100, che cazzo fai, lo abbassi pure, quando c'è un offerto, prima, 5,2, ok, vabbè, 5,2 va bene, e tagnautì, anche forse se ne va, prendere un altro portiere, oddio, in realtà, un altro ce l'abbiamo pure, senza la sfiga, se se rompa qua, ce ne abbiamo un altro, no, in realtà, non ce l'abbiamo un altro di portiere, però, a livello di portiere, possiamo prendere, uno svincolato, a quel punto, tanto portiere, qualsiasi ruolo, prendiamo un portiere, uno svincolato, magari, vabbè, l'età va bene uguale, basta che sia decente, insomma, insomma, allora, forza portiere, tuffo, insomma, però, te ne trova pure una madonna, di questi, oh, mi rompo i coglioni, pure a vederli, tutti sti cazzo di, io sto vedendo lì, zona portiere, tuffo, cazzi e mazzi, eh, qualcuno, poi dobbiamo vedere pure, tipo questo qua, 36 anni, è pure troppo, cioè, qualcuno che comunque, magari poi possiamo pure rivendere, una roba decente, 38, che cazzo, 33, un po' meno, no, al vivaio non credo di avere portieri, questo qua, 25, come, portiere 62, 72, preso, vabbè, non sarà il top, però magari, insomma, tanto per buttarcelo, no, proviamo, magari, Camargo, Camargo, vediamo un attimo, allora, no, sporadico, come cazzo di fare, sporadico, apposta, tanto a questo non interesse di giocare, facciamo comunque 4 anni, pure se ce n'ha, ce n'ha 25, quindi, perfetto, clausola rescissoria, un milione e nove, ma io farei senza, vuole 3.400, più il bonus tingaggio 29, va bene, dai, senza stare neanche a trattata, giusto per far numero, vediamo magari la sua valutazione effettiva, quant'è, 67, vabbè, come detto, è un sostituto, non è che, ci dobbiamo fare, qualcosa, qui c'è un Arons, che avevamo messo qua, allora, vediamo tra quelli che stavamo cercando, qual è quello che c'ha l'overall più alto, ce lo fa vedere, eh, Kamaving ha 82, la madonna, c'è anche Gnonto con 73, e questo CoC con un 71 di, a 19 anni, tra l'altro, noi scusa, Skellendrup, quanto c'ha di overall? Non che sia l'overall che definisca, insomma, la prepotenza di un giocatore, sia chiaro, però, poi vediamo anche un terzino sinistro al posto di Richelme, Skellendrup 72, effettivamente non, sta bene, Skellendrup, vabbè dai signori, per il momento ci possiamo arrangiare comunque, ci può stare, comunque c'è da dire che la nostra, madonna, il Real Madrid, ha preso Militao a 106 milioni, porco due, ce n'ha di soldi in Real, ecco perché non mi ha venduto quella, però me lo poteva pure vende, no, una volta che hai speso tutti quei soldi, ti devi rifare un po' di, tra l'altro per un difensore centrale, Edermi Litao, no, in realtà no, il Liverpool, il Liverpool l'ha venduto, scusate, scusate, l'ha venduto, porca troia, è incassato, il Liverpool ha pagato ben 106 milioni, un difensore, tra l'altro, il Real quindi ha venduto, un difensore per 106 milioni, un AD, Marco Asensio, al Manchester City, per 54, quindi il Real già 150 milioni, li ha fatti, per quello non ce l'ha venduto a noi, quell'altro, ci vuole buttare un'altra 90 milioni, della serie faceva 300 milioni, con una sessione di gennaio di mercato, sti cazzi, chi abbiamo venduto, chi era questo? ah, Taniautì, ok, vabbè, 5 milioni e 2 ci sta, ha fatto il suo Taniautì, però mo' ci abbiamo Voldemort, onesto, ok, so comunque soldi, 3 milioni e 8, poi un giorno prenderemo, quello che il Real non ci ha voluto vendere, maledetto, 87 milioni di cose, va bene, va bene, qua magari facciamo la parentesi dedicata, al calciomercato, ma,